A bordo di un tir che resterà in piazza Dante fino a venerdì prossimo, oltre 500 studenti delle scuole superiori della città potranno imparare semplici ma essenziali regole per una guida sicura. L'iniziativa è promossa dal Comune con la Fondazione Ania e prevede un programma formativo articolato su aspetti teorici e pratici di sicurezza stradale. Un gruppo di esperti spiegherà ai ragazzi l'importanza del rispetto delle regole al volante ed illustrerà le principali tecniche di gestione del veicolo in situazioni difficili. Con l'ausilio di un simulatore gli studenti potranno poi testare le proprie capacità. Nello stesso tempo altre iniziative stiamo promuovendo con la Fondazione, proprio perché il nostro impegno contro il caro assicurazione e per la sicurezza dei cittadini non conosce soste. Nei prossimi mesi dedicheremo un'iniziativa particolare ai ristoranti, ai pub, ai luoghi di ritrovo perché forniscano ai loro clienti gratuitamente il misuratore di alcol in modo tale che se è scappato un bicchiere di troppo posso far guidare un mio amico e quindi mettere tutti in condizioni di sicurezza ed altre ulteriori iniziative che rivolgeremo all'insieme delle scuole napoletane. Oltre alle scuole all'iniziativa possono partecipare tutti i giovani che vogliono cimentarsi nelle prove di guida al simulatore e per l'occasione le compagnie assicurative mettono a disposizione dei neopatentati tra i 18 e i 26 anni 500 scatole nere che consentiranno di ottenere agevolazioni sulla polizza RC Auto.